Il primo bilancio sulle iscrizioni degli studenti abruzzesi per l'anno scolastico 2023-2024 conferma il trend dello scorso anno. Ancora una volta sono i licei più gettonati con il 62,7% delle preferenze. Oltre ai licei si confermano al secondo posto gli istituti tecnici con il 28,1%, stabili anche gli istituti professionali con una media percentuale del 9,2%. Fredice Pescaresi, liceo Marconi registra un aumento degli iscritti soprattutto nell'indirizzo Scienze Umane. Siamo su 322 ragazzi iscritti ma come abbiamo potuto notare l'anno scorso dal mese di giugno sino al 31 di gennaio gli alunni hanno continuato a iscriversi da noi, le famiglie ma non solo i pescaresi perché i nostri ragazzi vengono anche dal circondario quindi da paesi e città limitrofe e anche insomma abbastanza distanti. Non si sono affatto lasciati sconvolgere da questa dislocazione, da questi disagi, anzi ci hanno dato fiducia e noi vogliamo appunto ridare loro fiducia continuando a comportarci come finora abbiamo fatto se non di più. Un periodo nevralgico che porta con sé ottimi auspici per il liceo pescarese, 30 le classi che torneranno, si spera presto, nella sede storica di Via Marino da Caramanico. Attendiamo fiduciosi la costruzione del terzo lotto nonché della palestra perché questi ragazzi meravigliosi e le loro famiglie meritano il tutto quindi un grande appello al Presidente di continuare a darci quello che ci ha dato sinora in soli 13 mesi ricordiamo siamo rientrati qua in questa nuova sede non siamo tutti, siamo soltanto 35 classi qui, ne abbiamo ancora altra metà fuori ad attenderci quindi abbiamo ancora qualche disagio perché i ragazzi sono anche in altre sedi ma siamo fiduciosi, ripeto siamo fiduciosi se in 13 mesi siamo rientrati qua chiediamo ancora e crediamo nel miracolo di prossimo anno di iniziare tutti qua vicini vicini con tutti i ragazzi